Buongiorno Monica, buongiorno Paolo, insomma la nave di Teseo che promuove un film, realizza un film la terza che si occupa anche di spettacoli teatri, sta cambiando evidentemente il ruolo dell'editore le chiedo come sgarvi e le chiedo anche se questa novità mette d'accordo tutti gli editori Ma io non so se gli editori siano tutti d'accordo, so che normalmente si ragiona per steccati quindi chi fa l'editore fa l'editore, chi fa il cineasta fa il cineasta, chi fa il musicista fa il musicista invece io credo che ci sia un modo di pensare a tutto tondo, quindi è bello che si aprano le menti D'altra parte Umberto Eco che è stato credo il maestro degli editor e che ha sempre lavorato non solo come scrittore ma come editor, insegnava che bisogna avere curiosità e quindi il mio messaggio agli editor che lavorano con me è di avere curiosità in più direzioni quindi parlare di libri, scoprire i libri ma guardarsi attorno, questo è il tema Vogliamo ascoltare adesso la voce di un altro editore perché siamo collegati con Andrea Gentile che è il direttore editoriale del Saggiatore, altrettanto seria, buongiorno, altrettanto cadetrice, altrettanto seria e rigorosa e vorrei sapere da lei come vede questa nouvelle bag dell'editoria italiana Sono molto d'accordo con Elisabetta e Anna rispetto a questo Un editore è colui che osserva il mondo, lo reinterpreta, lo rielabora in qualche modo lo sguardo editoriale è lo sguardo creativo, è lo sguardo della curiosità, è lo sguardo progettuale Sicuramente fare questo lavoro quindi significa questo, la possibilità che l'editore possa in qualche modo esprimersi anche attraverso altri strumenti Non ha veramente alcun senso, come diceva Elisabetta Sgarbi, ragionare per steccati Quello che noi abbiamo provato a fare in questi anni, al Saggiatore, è stato sicuramente questo cioè aprire le redini del mondo libro in senso stretto ma anche partire da un presupposto che da un altro punto di vista in qualche modo qualche anno fa non era dato così per scontato Mi veniva in mente questa cosa perché non c'è dubbio che questa nouvelle bag come l'ha definita Marco va incontro anche a delle nuove esigenze rispetto al pubblico a cui gli editori si rivolgono Penso per esempio, perché è il convitato di Pietra Marco, il cali di vendite di libri cioè si legge sempre di meno, questo lo leggiamo tutti i giorni Forte lettore è quello che legge quattro libri in un anno in Italia Tutti i giorni sui giornali Penso per esempio ai giovani, ma è vero che sono così refrattari ai libri o forse magari bisognerebbe fare qualcosa di più e questa nouvelle bag mi fa pensare per andare incontro alle loro esigenze Per quanto riguarda i giovani è parzialmente vero sicuramente la nostra nazione è sempre stata una nazione di pochi lettori ma a tempo stesso di molti lettori forti che per il mercato sono quelli che comprano un libro al mese comprano, non è detto che lo leggano Loro sono sicuramente i veri interlocutori dell'editoria quindi quello che per esempio noi abbiamo fatto al saggiatore è anche se da una parte dialogare con i nuovi mondi dall'altra ragionare sull'oggetto libro in qualche modo in maniera molto molto materica e cercare di far sì che il libro diventasse un'esperienza quindi se da una parte andavamo a pubblicare dei libri che sembravano esotici a una certa atmosfera che soprattutto qualche anno fa c'era in Italia penso a la pubblicazione di tutte le lettere di Oscar Wilde o tutti i saggi di Marcel Proust o di James Joyce d'altro canto si va a concepire l'idea del libro, dell'oggetto libro come qualcosa che sia esattamente un'esperienza qualcosa che si possa in qualche modo vivere come un'esperienza come si vive un film come un'esperienza però facciamo un'ultima domanda a Sgarbia Gianluca Paolo cominciamo da voi ma tra gli steccati che abbiamo tutti come dire condannato e il rischio Macedonia c'è una mediazione o no? Sgarbia e poi Gianluca Ma il rischio Macedonia c'è sempre se l'editore è un editore che guarda al pubblico senza guardare alla qualità del libro l'editore deve capire che il contenuto primo è il libro e la qualità del libro e la qualità della scrittura quanto poi ai giovani che non leggono io entro nelle librerie e adesso è stato un momento difficile ma le librerie sono piene di ragazzi che leggono un libro aprono, vedono una bandella quindi qualcuno che legge ci sarà il rischio di considerare la categoria giovani una categoria astratta l'editore non lo deve correre soprattutto deve credere nella qualità del libro e capire che quel libro se c'è arriverà a un pubblico giovane o non giovane ma arriverà conta il mestiere e non facciamo le macedonie lo sguardo aperto e il dialogo tra i saperi è un'altra cosa quindi come diceva Gentile l'editore è un regista siamo al Festival del Cinema degli sguardi sul mondo e questo deve capire l'editore sono assolutamente d'accordo con Elisabetta nel senso che non c'è il rischio macedonia perché quello che si tratta di quello che si sta facendo è realizzare quella che è una confluenza tra saperi che è il massimo diciamo auspicabile credo che il centro di tutto questo poi alla fine è l'autore che il tempo passa diventa sempre più è sempre più versatile è capace di fare diverse cose e credo che il nostro mestiere alla fine non cambia semplicemente si appoggia ad altre figure professionali ma è sempre quello di organizzare dei contenuti di alta qualità quindi non ci sono variazioni di sostanza è molto interessante questa nuova prospettiva questo mondo che si apre sai che mi veniva in mente Colleferro? noi da stamattina che parliamo di questi orribili fatti di Colleferro forse un po' più di libri in quelle certe palestre dove si allenano quel tipo di persone lì forse un po' di libri in più non avrebbero evitato questo nulla però torniamo a venire